Sono circa 300 gli alloggi di edilizia residenziale popolare che il Comune venderà a quanti oggi sono in fitto. Un'operazione che si trascina da anni, vediamo. Una storia forse anche di più di 20 anni che forse va a compimento, quelle dell'allineazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, Sindaco Battista. Sì, contiamo di adottare l'atto deliberativo in questa mattinata o comunque in questo Consiglio Comunale. È un fatto importante che arricchisce certamente la città, rende più ricchi anche coloro che vorranno acquistare gli immobili e ci metteranno nella condizione di poter pianificare costruzione di nuovi alloggi. È un fatto importante, se reso possibile, grazie a una normativa nazionale e all'appoggio della Regione. Quindi contiamo di chiudere l'iter prestissimo, proprio perché sappiamo che il provvedimento, tra l'altro, è molto atteso dai cittadini proprietari, inquilini delle nostre abitazioni. Sono circa 300, per la verità, ma poi questi soldi saranno reinvestiti, Sindaco? I soldi saranno le risorse che arriveranno da questa dismissione, saranno reinvestiti nella costruzione di nuove abitazioni. Voglio anche ricordare che la vendita è possibile soltanto a favore di coloro che attualmente risiedono nelle abitazioni. Quindi c'è una normativa molto specifica che dobbiamo attuare.